E ragazzi, come va? Io sono Fioriniki E io sono Steph, e questo è il DJ Kermaspor E andiamo subito a salutare i nostri 6 eroi del giorno Che per oggi sono XSide21, Chiara, Elisa, Christian, Simwolf e il Procione Pazzo Ciao ragazzi! Grazie mille per la condivisione, vi ricordiamo che anche nell'outro saranno salutati altri 6 eroi E oggi siamo su Spor Allora, prima di tutto, credo che l'avete notato, il nostro villaggio è diventato un sacco più grande Per di più i nostri Steriniki stanno facendo un casino, parlano tantissimo Tra di loro, non so bene perché Cosa abbiamo fatto? Abbiamo riniziato che l'ultima volta eravamo stati demoliti Proprio sterminati totalmente Esattamente, e abbiamo fatto amicizia con un sacco di villaggi Infatti, come potete vedere Cioè, no, 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 aspetta, 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 aspetta Ok, ok Hai giocato tu senza di me, e questo ok, lo voglio sottolineare Ma io pensavo che quei totem stessero a indicare che tu avessi distrutto altre tv Ma scusa, ma lo sai benissimo che voglio portare pace e amore E finalmente ho trovato il modo Cioè, hai fatto amicizia con tutti Guarda, guarda, guarda la minimappa Allora, abbiamo loro che sono proprio migliori amici Villaggio rosa I celestini, migliori amici Questi ci odiano Il villaggio arancione Quindi con loro c'è ancora qualche rischio di guerra Poi abbiamo migliori amici con i verdi Che erano quelli che l'altra volta ci hanno distrutto E con questi siamo così così Ho smesso di ascoltarti al primo villaggio in cui hai detto migliori amici Chi non è più miglior amico per sempre ma è nemico forever Ok Noi due Non è vero Mi hai fatto questa torta incredibile Io pensavo avessi sterminato anche qualcuno ma non è possibile Allora, adesso Comunque c'è speranza con gli arancioni, vedi? Sì, gli arancioni sono ancora pericolosi Invece guarda i verdi I verdi ormai sono succubi Succubè? Succubi? Non so cosa vuoi arrivare a dire Guarda cosa stanno facendo Ci stanno portando dei doni Cioè prima ci hanno Cioè gli schiavizzati Allora è bello questo Se abbiamo degli schiavi va benissimo l'amicizia Lì vedi che ci stanno portando il cibo Ma certo che va bene Se li usiamo come schiavi allora sono felicissima Non ti dico più nulla Non ridere Sei terribile Guarda Io dico la verità Dico le cose che tutti pensano ma che non mi sono Ma non è vero Guarda che bel cesto carino Guarda anche i fiocchetti ci mettono Meglio di così Perché ci amano Sono fatto anche proprio il regalo No perché sono schiavi ok No ci amano E gli schiavi devono fare queste cose Strumenti Le abbiamo messi tutti e tre Armi Abbiamo le torce infuocate E possiamo metterci le lance Che secondo me sono fortissimi Ma su cibo e guarigione Finalmente possiamo mettere le lance da pesca E anche le aste guaritrici Questa è una figata Ma io voglio le lance dai le armi No Andiamo a pescare Senti una noia mortale Guarda te lo dico Signor maialino dice che sei di una noia mortale Massa zitta guarda Nessuno io che penso a queste cose Nessuno ti sta ascoltando Allora proviamo a farli pescare Mi sta ascoltando che ridi pure No Dai anzi No sono curiosa di vedere come pesca Tre di loro Guarda i pesci Mettiamo canne da pesca Guarda che schifo i pesci Dopodichè li vedo che stanno saldando poverini Che impressione Clicchiamo tasto destro Ok vai Ma sono proprio crudeli Li infilzano Vai serenichi Uccidi tutti i pesci Guarda lì Pim Hai visto che l'ha preso? In effetti sono delle lance da pesca Non sono delle canne Esatto Probabilmente le canne ancora non le avevano pensate Ma guarda Lo spappola e lo mette nel cestino Predoni ha visto che un altro tribù sta attaccando Oh bello Questi? Questi? Ma quali sono? Questi sono? Gli arancioni Sono gli arancioni Vai arancioni Te l'ho detto che eravamo nemici con gli arancioni Te l'ho detto Torce torce tutti 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 Su 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 Dai che è il momento di fare guerra Su 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 Siamo pochi eh Guarda che stiamo rischiando molto Non dovresti essere Non hai fatto nascere di nuovi cuccioli? No No stanno ancora nascendo Sono ancora piccoli Ma soprattutto avevo spedito alcuni A portare del cibo per fare la pace Come regalo Esatto Io vorrei dire Vedi cosa succede quando tu vuoi portare il regalo agli altri Che ti attaccano Non è giusto Allora Mettete il cibo a posto e prendete le torce Scusa? C'è una navicella aliena Cosa sta succedendo oggi? È successo? Non lo so Allora Quelli sono pronti Guardali Sono lì con le armi Cattivissimi Stanno iniziando a colpire qualcosa No Alla carica Alla carica L'hai visto? Il capo tribù è andato carichissimo Proprio pronto a colpire Oh mio dio che bello Che bello Non c'è nulla di bello in questo momento Allora Ammazzate questo Su sconfiggi una volta perduti gli arancioni Sono gli arancioni giusti? Sì Sì Sono proprio gli arancioni Attacca il villaggio arancione Sì è giusto Ma terminiamo allora e poi distruggiamo il villaggio giusto? No Sì No 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 L'altra volta abbiamo provato così e l'è finita male Quindi questa volta li spacchiamo Oh oh che cosa state facendo? Stanno attaccando le nostre capanne Ci stanno spaccando le capanne Vedi che dobbiamo distruggere il loro villaggio Vedi? Cioè ce l'hanno rotto eh Guarda Ci hanno rotto una capanna importantissima Eh che ti devo dire Era quella dei DJI do Ok la vittoria nostra Gli abbiamo spaccato la faccia Allora sinceramente dai Sono d'accordo E te l'ho detto Già che ci siamo Ne hai sterminato la metà Quindi perché non andare a finire il lavoro? No no Questa volta sono d'accordo con te Guarda Ci hanno distrutto la capanna Più affronto di così No? Ma te andando? Sì Che succede? Sì 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 Sono all'assalto Mentre sto facendo altri piccoli sterinichi Ma lo tale che questa volta Bravissimo Bravissimo Non possiamo subire contraattacchi davvero pesanti Dai ragazzi Pronti? Non tutti sono armati con le torce Purtroppo qualcuno se le dimenticate A casa A casa diciamo Guardali Guardali Disgraziati Allora dobbiamo Ammazzare prima i bambini Lo so Vedi? Sei una persona più terribile di me È inutile che fai finta di volare Passi al mare Lo so ma altrimenti crescono È me è inutile Vedi sei una persona Terribile Guarda come li stiamo sterminando Vai serenichi Io non lo so se possiamo vincerla questa guerra Non è proprio facile Certo è serenichi Sì certo Nel caso scappiamo? No non ci facciamo a scappare Te lo dico Perché ci inseguono? Sì e ci ammazzano di brutto Poverino questo qua si chiama tardo Ma ti sembra? Ma ti sembra un nome da dare? Sì A delle povere creature L'avrò però dovuto dare anche a te Scusa mi hai servito su un piatto d'argento Non potevo non dirla Cioè scusa mi sono qua A fare quello che tu volevi Ovvero la guerra E mi dai pure del tardo Esatto Non ti meriti nulla Non ti meriti questo sterminio di massa Abbiamo vinto Quasi Non manca uno giusto? Sì 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 Oh finalmente Sterenichi ce l'ha fatta distruggere interamente un villaggio Vai la capanna Prima che ne nascano altri Esatto Tutto distrutto Per quanto sia terribile da dire Allora Nel mentre a casa nostra Mi sa che qualcuno ci ha mandato questo bellissimo pacco regalo di cibo Ma quant'è non a mandarcene? Sì 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 Perché abbiamo un sacco di Bravi schiavi Bravi bravi No ma sono i nostri aliati Abbiamo lasciato il capo qua Mentre i nostri assaltavano Ti rendi conto? Il capo rimane ad amministrare tutta la tribù Mentre invece i soldati vanno a combattere Insomma C'è qualcosa di interessante? Sì 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 Le asce di pietra Uh è quella Quella ad esempio Quale? Questa con la fornace Le lance Che abbiamo già Sì 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 Ma mi sa che ci mancavano solo le asce di pietra Le asce di pietra Bellissimo Aspetta è nato un bambino Dobbiamo È la legge del più forte Mi dispiace È terribile Tanto guarda non avresti Non saresti sopravvissuto lì da solo Quindi Ma non è vero No è così Avrebbe avuto una vita bellissima Poverina Piena di sogni E di speranze L'avrebbe mangiato un titano da mille Quindi Oh Almeno abbiamo posto fino alle sue sofferenze Se guarda Dove li continuano stanno nascendo di nuovo? Quanto ci vuole ancora? Ci vuole un sacco È fortissima la capanna È fortissima Ormai Stereniki Abbia conquistato tutto Bravo Stereniki Sono fiera di te Sono fiera della sua tribù Che è bello E ho riuscito a sterminarli No Vedi tu hai fatto tutta pace Mentre non guardavo E mi hai lasciato il più bello Cioè sterminare le persone Quando sto guardando Guarda che bello È anche più bello il totem Della distruzione Voglio questo come animaletto Lui Lui Assicura Quello Quello l'altro Quello lì di spalle da solo Lui sì Sì Lo voglio come animaletto È troppo carino Ok Sto andando Grazie È troppo carino Allora Poi io direi di selezionare A te E vai A fare Un bel dono A loro Però ci serve Del cibo da donare Ma fanno un po' schifo Hai visto Hanno tre campanne contate Quelli li possiamo sterminare facilmente Ma non c'è bisogno Ma guardali Guardali Anzi ne hanno due Una due Non c'è altro Vuoi finire col botto Sì Vuoi finire col botto Sì Sì Assolutamente Assolutamente Ok Ok Te lo concedo Allora Dobbiamo fare così Dobbiamo Costruirci Le asce da guerra Le asce Le asce di pietra Ok E poi Bellissime Le lance Le quale possiamo mettere No Peccato In questi In questi riquadri qua No Non fa mettere nulla No 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 Abbiamo riempito tutto Quindi dovremmo Togliere qualche cosa Ma dai mi piace così Sinceramente Quindi lo lasciamo così Penso che le asce Siano sufficienti Abbiamo pure le torce Fai metta metta Penso che possa andare bene Esattamente Allora mettiamo Tutti gli altri A raccogliere cibo Con i bastoni Ok Guardalo Guardalo È troppo carino Ma è scarsissimo Fammelo vedere Fammelo vedere in faccia Ti prego Aspetta Guardalo Oh che bellino È troppo carino Sono felicissima Sono felicissima Meno male Meno male che tu sei felice Certo Ok Siamo pronti Ne abbiamo alcuni armati Con le Le asce da guaritore Abbiamo alcuni Con le torce infuocate E altri con le asce di pietra Perfetto Perfetto Andiamo Siamo pronti Guardali Vai stere Niki Vai che sei fortissimo Allora Sono tutti Sì 4 8 12 Sì 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 Sono tutti qua Siamo pronti Iniziamo già a impostare Che siamo da battaglia E non da amore E pace Quindi proprio per far vedere Subito il nostro obiettivo Io ci tengo A precisare Che tutto questo Non lo sto facendo per piacere Ma per farvi felici Perché vi piace la guerra Ok Perché tutti fanno il tifo per me Quindi è giusto È giusto Dai è più bello sterminarli Dai scusa Abbi pazienza Diverte pure a te Quindi non negarlo Io sono tristissimo In questo momento Guarda l'ho costruito Un'altra capanna Con le lacrime Guardali Guardali Sì ma poverini Però sono tanti No sono scarsi Sono in 8 Ma sono tanti Siamo 12 contro 8 Direi che non c'è paragone Andiamo Distruggi tutto Devo cliccare velocissimo Sia l'1 che il 2 Vai Ok di nuovo Ci tocca ammazzare I poveri piccolini Che sono appena nati E manca la capanna Giusto Sì sì Che adesso circondiamo Sono morti 4 sterenichi Poverini Poverini Vedi loro sì Sono poverini Loro mi dispiace I poverini hanno combattuto E devono essere orgogliosi Di aver vinto la guerra Anche se più sono morti Guarda che figata Lo sciamano come cura Lo vedi? Bellissimo Guarda che figo Com'è guarda lo bastone così E cura tutti Mi piace un sacco Ok 400 E abbiamo finito Nel mentre Visto che mi vergogno Di avere soltanto 8 sterenichi Facciamone nascere di nuovo Altri 4 Con le bovettine carine Che bellini Chi è quello? Chi è? Ci vuole rubare il cibo Non vuole distruggere Il nostro piccolo Ma come ti permetti? Ma picchiatelo Fate qualcosa Non si difendono Non si difendono Come? Ok E' finita Distruttivi lavanda Perfetto Perfetto Quindi abbiamo fatto Pace e amore Con 4 specie Mi sa E guerra Con 2 Una cosa del genere Così abbiamo accontentato Un po' tutti Guarda il totem Adesso c'è l'ultimo Color lavanda Sempre con lascia in mano Ah io Intanto la tribù Del villaggio lavanda Il totem Ora è completo Adesso puoi passare Alla fase civiltà Bellissimo Bellissimo La tua tribù Regna suprema Clicca sul pulsante Avanza per passare Alla civilizzazione Abbiamo finito Anche la fase tribù Siamo fortissimi Bravo Sterini Chi ce l'hai fatta Clicca qui per fondare La tua prima città Accederai così ai creatori Per realizzare il municipio E i vari veicoli È fighissima l'ultima fase Davvero davvero fighissima Lo so Dovremmo impegnerci tantissimo Per costruire come si deve le cose Qua abbiamo la nostra bellissima storia Completa la fase tribù In meno di un'ora Hai letto? Siamo stati velocissimi Velocissimi Abbiamo fatto anche un achievement Bellissimo Non so come sia possibile Ho detto che ci hanno pure annientato una volta Non lo so neanch'io Forse è stato velocissimo Quando hai rifatto la parte della fase Non lo so Non lo so Ah Qui dobbiamo costruire il municipio Sì Prima di iniziare È vero Me l'ero scordata Questo è cattivo Io ti dico Secondo me È meglio che ci prendiamo un po' di tempo Quindi lo facciamo nel prossimo episodio Decidiamo bene come farlo Perché lo sai che noi siamo un po' scarsi Esatto Magari ragazzi Un po' di suggerimenti nei commenti Qualcosa di abbastanza semplice Perché sapete Che siamo negati Ma ci vogliamo provare Proviamo a fare qualcosa di carino E nel prossimo episodio Si inizia la fase civilizzata Che sarà la più importante Assolutamente Ma prima di finire il video Andiamo ovviamente a salutare Gli altri nostri sei eroi del giorno Che per oggi sono Flavia Francesco I Professional Call of Kecko Mattia e Maurizio Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Beh ragazzi Il video è felice così Se è riuscito a scettici un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerarli Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao